Con voi Martino Ciano per le notizie del giorno. Praia a mare, accordo trovato tra il Comune e gli ambulanti nel corso della riunione che si è tenuta presso il Prefetto di Cosenza. Le tariffe saranno rimodulate nel 2020 e per quanto riguarda la giornata di lavoro, persa giovedì scorso, visto il divieto di accesso all'area mercato imposto dall'ente ad alcuni ambulanti, si recupererà il 26 dicembre. Questo è quello che ci ha detto il Presidente dell'Associazione Ambulanti, Marrigo Rosato. L'intervista è riascoltabile su www.radiodgs.net e il nostro canale YouTube. Acclamato all'unanimità il Congresso regionale dell'Istituto di Urbanistica, Domenico Passarelli, riconfermato Presidente dell'Organismo Regionale Calabrese, la sezione INU Calabria, ha celebrato nella sede del Consiglio regionale della Calabria il suo congresso alla presenza del Presidente nazionale, Michele Talia, delle istituzioni regionali e dei numerosi studenti partecipanti. Hanno affollato la Sala Calipari di Palazzo Campanella, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, i collegi dei geometri, i dirigenti tecnici della Regione Calabria, oltre ai docenti universitari e molti altri cultori della materia. Un commerciante di preziosi e evasore totale è stato scoperto e denunciato dai finanzieri dalla seconda compagnia di Gioia Tauro, che hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo. Dalla verifica fiscale cui è stato sottoposto il commerciante, è emerso che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, occultando le scritture contabili e i documenti per non consentire la ricostruzione dei redditi e dei volumi di affari per un totale di 1.260.000 euro. E ora il riepilogo dei fatti del giorno. La politica regionale. Pippo Callipo apre a Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento 5 Stelle sarà venerdì. In Calabria l'imprenditore candidato del centrosinistra spera di incontrarlo per dare avvio alla rivoluzione civica. Intanto domani si attende l'arrivo di Salvini, ma non è sicuro che Iole Santelli sia a capo della coalizione di centrodestra. Nel centrosinistra invece venti di guerra dagli ex segretari delle federazioni del PD di Crotone e Cosenza, commissariati, a loro dire, in maniera illegittima. Siamo pronti a presentare ricorso. Sul Tirreno Cosentino, a Scalea, il consigliere comunale di minoranza, Eugenio Enrico, preoccupato per la situazione del bilancio comunale, il 22 gennaio, la Corte dei Conti si pronuncerà sui conti dell'ente. Chiedo, scrive Enrico, al sindaco Gennaro Licursi, di porre in essere tutti gli atti per scongiurare il dissesto. Ambiente con il presidente dell'Associazione Italia Nostra, Alto Tirreno Cosentino, Roberto Laproriter, abbiamo parlato dei dati ufficiali scaturiti dagli interventi di pulizia dei fondali dell'isoladino. Ben 7 tonnellate di rifiuti, di cui 3 di copertoni dati agghiaccianti, ha detto ora si pensi ai rifiuti che si trovano sull'isola. L'intervista è riascoltabile sul nostro canale YouTube Radio DGS su www.radiodgs.net. Domenica 15 dicembre alle ore 16.30 presso il Santa Caterina Village a Scalea si terrà un convegno promosso dalla sezione locale di Italia del Meridione rivolto alle tematiche del turismo e in particolare alle problematiche scaturite dalla direttiva Bolkestein. La direttiva che da anni fa discutere più ambiti commerciali e produttivi della regione e dell'intera nazione che genera preoccupazioni nel settore. Il turismo, oltre la Bolkestein, è il tema di cui si parlerà la presenza dell'assessore regionale della Calabria con delega al demanio marittimo, Francesco Rossi. In 30 anni la Calabria ha visto sparire un quarto della terra coltivata, l'equivalente del territorio dell'intera provincia di Crotone, con effetti negativi di trascinamento sia in termini di paesaggio rurale sia per ciò che concerne la tenuta idrogeologica di intere porzioni di territorio e quanto emerge dall'analisi prodotta da Coldiretti Calabria in occasione della giornata mondiale del suolo. Sarà ufficializzato a Roma il prossimo giovedì 12 dicembre alle ore 11 presso la sala riunioni della sede regionale di CNOS FAP Lazio in via Umbertide 11 l'avvio della prima rete nazionale di tecnici volontari grazie alla presentazione di NETPRO, network di esperti tecnici per la protezione civile. L'associazione NETPRO è nata da un gruppo di professionisti tecnici sensibili alla cultura del volontariato. Molti di essi si sono attivati in occasioni delle emergenze post-sisma verificatesi negli ultimi dieci anni in Italia, quali il terremoto dell'Aquila nel 2009, il sisma a Emilia e del Pollino nel 2012. È tutto, grazie per averci seguito.